Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vedremo dove trovare la macchinetta del mercato nero di Maurice nella settimana che va dal 15 al 22 luglio. Questa settimana ci troviamo alla periferia di Meridian e trovare la macchinetta sarà estremamente semplice e veloce. Se non sapete come arrivare al punto laggiù vi faccio vedere subito il percorso. Mentre vi mostro il percorso vi ricordo che per le prossime settimane non riuscirò a farvi le guide sul mercato nero quindi vi invito a seguirmi su twitter qua trovate l'username dove vi comunque pubblicherò quando uscirà la posizione nuova la settimana prossima. Eccoci quindi arrivati questa settimana avremo il lanciarazzi leggendario Torg Scourge, avremo la pistola leggendaria Jacobs Maggie e infine lo scudo leggendario Pangolin Impaler. Come ogni settimana vi ricordo che una volta che avrete interagito con la macchinetta scomparirà per circa 30 minuti e poi riapparirà.